E non è che poi arriviamo là in un tavolo qua, dove ci si può arrivare? E non è che poi arriviamo qui. E non è che poi arriviamo. E non è che poi arriviamo qui. 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 No. E poi arriviamo qui. E poi arriviamo qui. E poi arriviamo qui. E poi arriviamo. 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 E poi. E poi arriviamo. 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 e poi. e poi arriviamo. 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Wow. Wow. Yeah. 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 No, no, no. No, no, no. Vini. Grazie. 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 Can I tell you something that's a name? That's a pain. Make it. I don't know. What did you call me? What's your music on you can? I want to make some of those? Sì 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 Grazie. 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 Grazie.